Sono particolarmente lieto e onorato del riconoscimento che mi è stato conferito e ringrazio di cuore il sindaco, avvocato Giuseppe Falcomatà e l'amministrazione comunale. Il San Giorgio d'Oro costituisce infatti un punto di arrivo importante per tutti quei reggini che nel corso degli anni hanno operato a favore della crescita civile, morale e culturale di Reggio Calabria o che nei più diversi campi di attività hanno reso onore con impegno e dedizione, talora anche sacrificando la vita alla città che ha dato loro i Natali. Consideriamo questo premio come un ulteriore incentivo e stimolo a bene operare nel campo della promozione della cultura, a noi più congeniale, a servizio della nostra comunità. Quest'anno le celebrazioni del Santo Patrono cadono in un momento difficile per il nostro Paese e per il mondo intero a causa dell'epidemia di coronavirus e pertanto è particolarmente importante e apprezzabile che il sindaco, quale atto di speranza e soprattutto di fiducia nella prossima vicina risorgenza, abbia voluto mantenere l'ormai tradizionale appuntamento con il San Giorgio d'Oro. Per quanto riguarda la mia persona non posso che ancora una volta ringraziare per le gratificanti motivazioni sottese al riconoscimento conferitomi che estendo doverosamente all'intera associazione Anassilaus e a tutti gli amici e le amiche del sodalizio che giorno dopo giorno insieme a me lavorano e operano con entusiasmo e in spirito di amicale vicinanza.